Morto Coggy, resto è noia. No, c'è anche Coggy che rompe coglioni Non sono in sessione di programmazione, va Bini, te lo Mi è arrivato un pacco da Amazon, però non ho ordinato niente Ah no, in verità sì Un genio Lei mi ero dimenticato, sai, a volte ti ordini le cose e ti dimentichi che esistono No No? No Ho detto sinceramente, no Io devo comprarmi un UBUSB Ho tutte le USB piene In realtà si fa sentire, ma no, è come quando ordini 100 cose diverse Ah è vero, stasera c'è il Milan, c'è il Milan Liverpool Scusa, non ho capito Mi ero a Manchester, il Milan Liverpool, ma come cazzo mi viene in mente? Non lo so, devi dirmelo tu Ma che ne so Che ne saccio Ma che ne so Che ne saccio Piccola domanda, posso chiedere se è arrivato il mio replay a chi se l'ho mandato la patch prima Eh, ma se è della patch prima non possiamo più commentarlo Infatti adesso ho resettato tutto Adesso ho resettato tutto E spero che risolvano per domani lo spectate così che almeno possiamo farlo domani Se no si risolve facendo un altro giorno Si fa stasera Prowler plank No raga No Vabbè è tutto Ma Prowler plank No Prowler plank no TF non ha comprato TF TF non ha comprato Eh rip È contro Corky In early game se non fa cagate non muore ugualmente Sii, non ha danni Non ne avrebbe comunque Prenderebbe Corrupting Pot Ah vabbè allora Hai giocato a Kali con il nuovo bilanciamento? No Non l'ho ancora provata Non ho neanche guardato le statistiche ma Hai messo 2007 Eh morto tiè È stato gankato Poretto Livello 2 gank di Lee Sin Famosissimo È fortissimo il gank livello 2 Assolutamente si Eh Ho fatto l'anked da soddisfazioni A quando pare WTF Qua è il range out attacco di Hadrox Che cazzo è? I campioni corpo a corpo che hanno un range Sapevo che ci avrebbe provato il bastardo Attento a Lee Sin No vabbè Attento a Lee Sin Ma dici che viene subito top? Probabile Eh Sta molto vicino alla wave quindi è probabile che sia qua Mamma mia come sto giocando male comunque Gameflank È al gergetto Che? Che non ha applicato il grasp Ma forse era uscito dal combattimento? Dice Dice il flash Goal? Serio? Sì Top side è abbastanza tranquilla per ora Sto farmando uno schifo però quello è un altro discorso Oh cazzo Sono morto? Figa i danni Quanto gioca aggro sto Hadrox Per l'altro con i danni flat Riesce a uccidermi così facilmente Questa è la cosa che un attimo Mi ha lasciato tipo wow man Chill Eh devo per forza detrasportarmi Se no perdo troppo extra Minchè c'è anche god Se facciamo uno per uno è ok però Ok uno per zero Fortissima Fort 1 per 50 Ah Hadrox ha flashato quindi va? No non ha flashato alla fine Perché io ho un Un tf che compra tre pozioni Non lo so Forse non mi piace la pozione ricaricabile Che ti devo dire Mamma non posso andare back Al 6 già lui? No 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 Eh ma ha tutto disponibile Quanto gli manca al 6? Poco Questa è un'altra di minion Probabilmente Appunto No cazzo A te quanto manca? Eh ancora mezzo livello almeno Non è wardato Spero che parti sti minion Anche se non fosse wardato Cioè capisci neanche il carretto basta Ok sono al 6 Faccio i gole Eh ho già perso mezza vita Bene Eh sai com'è mi aggredisce lui Non è che sta ad aspettare Come no Eh c'è lì sì c'è lì sì Arriva 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 Ce la fai? No non ce la faccio Arriva a Twisted Fate Ok uno lo prende Vi prego prendetelo Oh che bravi che siete Mi voglio bene Good job Bravissimi Buona la wave è pure settata Oh nice Mamma Sono per le vuse Che bello Che bello Ha il TP lui si Eh no Non è wardato qua No 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 l'altro ha già usato le altre TP Eh Ha tipato già Sì sì ha tipato già Vabbè sta arrivando di nuovo Vi vedi Tanto lui la ward ce l'ha qua Il che significa che qui non ne ho Arriva al tuo stesso timing Sì il timing dovrebbe essere identico uguale E non ha la ult E neanche io però Eh che cacchi me ne frega Vai 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 Madonna santa Non può di bloccarmi Eh Mi è body bloccato un sacco Peccato Eh devo piazzare il barile avanti prima Più che altro con il doppio knock up Con il doppio knock up che ha trovato su di noi si cura totalmente tanto Ah fuck Oh ma è divabile questo Sì sì Ho mandato tutto il torre apposta Pensavo stessi arrivando Bella Pensavo stessi arrivando da dietro Sì dovresti Mi ha fissi a cavato Eh più che altro non so dove è l'isina L'isina dovrebbe arrivare adesso per il blu Ma non c'è il blu Ah la F l'ha preso tu Eh l'ho preso io Ok 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 No infatti ero tipo Wait ma il blu non è F Che altro mi serve TF Ma dove stai bruciando Cosa non c'era Ah l'isina è mida a posto Bella Uh TF 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 Proprio lui Che giocatore magnifico Bella sta mezza vita Bello l'isina Non possiamo Non possiamo No la W nooo Non è partita Ah saresti morto uguale No non sarei morto uguale C'erano due persone qua Saresti morto uguale Porca droia Non è partita da W Eh è stato lento io A premerla Sono stato lento io A premerla No non è un lucky Sono io che l'ho premuto male Cioè se ho le dita fatte di burro Che devo fare raga Cioè le dita grosse L'ho usato io a scasso Ciao quartino Ma era guardato Oh no è morto TF Oddio Ah peccato Oh ciao l'isina Non giocate l'isina Sì lo so Però non posso buttarlo per essere Nessuna parte Ma che cazzo sta succedendo là Cose Non farti domande Che robe incredibili Più che d'altro Devo buttarlo top lane Così almeno Lapo prende vantaggio E GP che prende vantaggio E wow 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 Una placca Dobbiamo prendere Eh sì ma la prendo a ruolo questa Eh non serve un cazzo Anzi è peggio Se lo butto mid Tanta vita ha un altro E' un altro becco Oh che parla Oh prendiamolo qua Ah ti è fatto Arrivo Sta arrivando Ha paura Ha paura Hmm penso che abbia visione No Bro vattene 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 Ah a meno mezza vita No è che ho l'essence river E preferisco andare a prendermi l'essence river Eh sì Mi hai perso una placca Se è La butto mid Ti fa ancora Eh ho perso una placca Ma sti gazzi Sinceramente Eh poi Top sì Debar qua Manca mid Manca top Ma mi aspettavo Quanti bassi salute bard Bogo Però non lo uccidi E a red li si Ah cazzo Algor drinker Porca merda Porca merda Porca merda Porca merda Porca merda Porca merda Che bello Non finire più in mana Bravo dia Io ho messo Un giù la ulti Ho rallentato È tanto ora Dove sto andando a farmare Finché non ho Ferite gravi Contro l'atrox Non ci vinco Con le prossime skin Arriveranno anche i soldi Oddio I'm alive In prossimo campione Intendi Non sappiamo se i soldi o meno Cioè non è una garanzia matematica Manca top Non so dove sia State attenti Ok è tornato LOL Si è fatto il blue buff Ma dai Che culo che hai Non mi è partita la doppia Mamma quel trash Con quanto è sopravvissuto Adorx si è fatto il blue buff Di Resin Comunque Si Sto giocando Come se avessi Troppo vantaggio Oddio due ribelli Seriamente Questo barrile Ha fatto combo Ma il mio Siderà già fatto Il mio Il mio blue No Non ho messo l'altro Cosa? L'altro barrile Eh non volevo Volevo stato andato a tenerlo Lontano dalla torre Mi servono più barrile possibili Perché in caso Mi dai vilistina adesso What? Oh No Rijkaard Grazie No I patriciamenti Della R Di Gangplag Sono permanenti Non devi Ricomprarli Attrox è andato back C'è l'herald di Sin Dici? Non si vedono corchi di Sin Da un po' Servono perite gravi intanto No No Dimmi che non mi ha spottato Io sto arrivando Ma ci metterò un po' Ficcavo L'ho aperto un po' di tempo Sicuro Oh lì si Mattene mattene Ti prego Jumpa Pallo Bravo Sto arrivando Ci sono Ci sono C'è anche TF credo Bella Di passiva Mia Bella così Da quanto non gioco Gangplank comunque Comunque non sono così schiposo Pensavo di essere messo molto peggio Ma molto peggio Sono contento Yeee Ma dai vato Eh sì Quando Atrox è greedy È greedy Dresh merita l'honor Per cosa Adora sta giocando molto bene Dresh Capito Ma l'honor L'honor è tipo L'oscar della partita Cioè L'oscar della partita Assolutamente sì A chi lo dai l'honor Open top K Pori il Tadon amico Herald my return What the fuck Ciao Bardino Ma perché Io ero al top Boo Ciao Corchino Minchia l'isina è all'otto Eh si è successa la stessa cosa che è successa a me poco fa Sì sì l'ho vista la kill insola sul trash qua Mi manca un Tf a me Tf Pazzo Con che cazzo gigante No cazzo Per caso Ma è morto Bard Eh no Ah cavolo Avessimo attaccato Avremmo avuto la testata piena vita Di Dell'herald Eh vabbè Poco importa Bonk Questa build di GF Di GP comunque Di GF Di GF Mamma mia Di GF Il grande fratello Il grande fratello Ci guarda sempre Dall'alto Che cazzo era Bard Non lo so Non mi faccio più molte domande Ma abbiamo visto un po' Se mi spuntano Trocino un cazzo Sì sì infatti Vabbè che basta GF Come Oh no Tf Tf È stato bello Tf Good luck in esports Qualcuno che mi face check No figurati Non ti face checkeranno mai Stanno andando al baron Sono al baron Sono al baron Pazzi Non possono Cioè si sono presi 500 danni a te 600 Boh ok Sono veramente tiltati Sono rimasti dentro Sono veramente euforici Lol Ah Porco cane Mi danni Che si vede Che tira delle sleppe Incredibile Eh Guarda che si vede Inseguilo Tf Mi hanno quasi ucciso La prossima lettera della targa Sarà proprio GF Siamo arrivati già alla G Siamo alla G di targa Non ho capito Lei è la targa delle macchine Sì La voglia Quando finiranno In un futuro Lontanissimo Il numero delle targa Capisci che ci abbia messo 40 anni Per arrivare fino a G Eh però Gli ultimi anni Siamo passati Tipo di due lettere Tipo instant Eh perché c'è stato Il cambio generazionale Di auto Esatto Tante sono diventate illegali E molti sono stati costretti A cambiarla Succederà la stessa cosa Succederà Nell'elettrica Eh esatto Succederà Nel 2025 di nuovo 2030 perdonami Che cosa bella quella Quando l'ho visto Ero così felice Che l'Europa Avesse fatto sta scelta Sì perché non si sapesse Dal 2030 In Europa Non si possono più vendere Macchine a combustibile Non puoi venderle proprio Il capitano GF Come mi è venuto GF Ma che ne so Eh cervello fuso Daz Sei la vecchiaia C'ho 30 anni Eh la vecchiaia No allora Le ibride verranno Considerate Fuori 2035 Hanno 5 anni in più Però perché le Plug-in hybrid Sono diverse Potrebbe piacciare un lume Uiii Vabbè io ho capito Vado poi hot lane A chiudere Perfetto Ah ah è vero che con la Drakthar diventa invisibile Me ne ero dimenticato Giuseppe Conti è casalino Il futuro non è elettrico Com'è il futuro Idroelettrico Idrogeno forse intende Bella ulti Ci ha provato Ragazzi il fatto che non siano più vendute Non vuol dire che diventano tutte illegali di colpo Semplicemente non vengono più vendute Tutto qua Diventa invisibile come te Dardos Questa bill è un meme Sag Sag Sì è abit sag È un po' sag In effetti per loro Non si pitta Wait for me Aspettatemi per favore Odia Mi dispiace E il fatto che la Q Se la evolvia Mentre il regno è prendissimo Amattilo Il futuro è la moto Caronino Non andrò mai qui in moto Aspettatemi di fare la super Di tuo compleanno Ma due settimane mi hai fatto un po' arrabbiare Perché tu hai video nell'intro Dici sempre commentare se avete domande Ma per ben due video Non mi hai risposto mai Questo mi ha fatto girare molto i coglioni Anche se ti conosco Te lo ricominci su YouTube Che fai i video Per tutti i miei scarsi motivi Per questo ti ringrazio Beh se vuoi farmi una domanda adesso Meco